Sono qui con la mia amica Megumi Ho che produce occhiali da sole, ha scelto G Marketing Group per pubblicizzare il suo brand in Italia, infatti a mano, handmade, giusto? Made of Mazzicali Acetate. Designed in California, in Los Angeles, studiati per della gente orientale, quindi persone giapponesi e cinesi che hanno il naso un po' più piccolo rispetto a noi occidentali che hanno una narice un po' più grande rispetto a loro come fa a vedere Megumi Ho la differenza fra gli occhiali che possono essere i miei che comunque senza citare nomi o marchi si appoggiano alla guancia, allo zigomo mentre questi suoi no perché hanno la narice leggermente studiata Megumi Ho Megumi Ho And no cheek touch sunglasses Perfect Si Ciao Ciao Ciao